Lancio riuscito per Falcon 9. Il vettore di SpaceX ha spiccato il volo dalla rampa di lancio della Cape Canavera Space Force Station alle 4.21 italiane di questa mattina, portando in orbita 22 satelliti Starlink. Il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra come previsto, atterrando circa 8 minuti e mezzo dopo il decollo sulla nave a largo delle cosse della Florida. Il booster utilizzato per questo lancio è al suo settimo utilizzo, mentre il record di riutilizzo di SpaceX è di 16 voli. SpaceX aveva pianificato un secondo lancio per questa mattina, il cui payload era composto da 13 satelliti per la US Space Force. Il liftoff del Falcon è stato poi rimandato a questo pomeriggio, poco prima delle ore 18, per via di un problema tecnico non specificato dalla compagnia di Musk. Lo scorso 22 agosto SpaceX ha completato la missione numero 100 di Starlink. Il lancio era inizialmente programmato per il 18 agosto, ma ha subito uno slittamento a causa del passaggio dell'uragano Hillary.